ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video in cui andremo finalmente ad aprire il topolino numero 3286 ovvero il topolino dedicato ai 90 anni appunto di topolino costo per questa volta di 4 euro 90 quindi superiore alla media ed ecco mi potete vedere insieme una statuina ovvero la statuina di topolino d'oro fa parte della serie che potete comprare con le figurine relativa all'album di 90 anni di topolino quindi questa completa con la serie lì adesso andiamo a fare l'unboxing per chi fosse abbonato non lo riceverà e il topolino dovrà per forza comprarsi l'album in edicola ecco qua questo è l'albo come potete vedere due versioni di topolino con i vestiti del 1928 è diciamo la versione attuale modella in realtà di base il topolino è normale come sempre e c'è già la pubblicità con i futuri francobolli che si dovrebbero trovare dal prossimo numero riguardanti sempre topolino e ora andiamo ad aprire la statuina vera e propria eccola qua questa è la statuina molto piccolina di topolino tutta completamente dorata fatta di plastica ha già un'imperfezione qua dietro vedo nel mio caso non so se ce l'hanno tutte ma nel mio caso fate vedere manca un po di colore qua dietro nella nuca adesso ve la rilascio qui che potete osservarla è alta quanto più o meno il mio pollice un paio di centimetri spero che questo video vi sia piaciuta potete trovare questa statuina con un relativo numero ne dicono ovviamente vi consiglio di comprare perché comunque è un numero da collezione e dovrebbe avere anche una variante questo numero qualche quello uscita luca spero che questo video vi sia piaciuto che vi iscrivete al canale ci vediamo alla prossima ciao